C'abbiamo anche una squadra bella così Come vuoi? O stava laggando o se no usa la bagno Ma penso stesse laggando Spero di sì Ma do, sto cadendo Stai pronto Tadde? Sì, sono neanche di te Andiamo dai blu, scusa Yes Con piacere Mi ha reportato quello Ma comment Quando mi vedono fare il ponte veloce Alcuni mi report Sturido Ci abbiamo ancora a letto, sì Sì, sì Vado dai verdi Non lo so neanche io Beh, io uccido questo blu che No, si è suicidato Maledetto Sei dai verdi Quasi Arrivo, sono neanche di te Sì, comunque è vero Quando fai il ponte velocemente Ti posso far si torci un po' il naso Hai preso tu il secondo letto? Sì, ma c'è un tipo qua Ok Ho due TNT allora Siamo subito veloce al ruolo Da Non vai Ce la fai o no? No, non ce la fai No Oddio La domanda è Secondo te Ha una firebot Secondo me No Vieni dietro di me Questo è un blocco Dopo che mi hai seguito C'è un tipo però ci viene da dire Cioè se ne sta facendo il suo ponte in perterrito No, ok Penso sta venendo da noi Sì, infatti sta andando da noi Mi ho Vabbè Mi ho ucciso Spaccato il letto nello stesso momento Cioè stavo volando di sotto a spaccato il letto e sono morto Capito Spaccato il letto e si Un po' Fini Con Siediti qua in braccia a me Allora La chiave E in che isola sei blu? Sono andato via dalla nostra base E il nostro compagno è stato recato Cioè vabbè Una è nella nostra base E poi l'altro è nella nostra isola E' in quella dei diamanti Sta venendo da te Nel giallo E' sul ponte L'altro No vabbè Vabbè GG Questo lo studiare È una mia frase d'effetto E' una mia frase d'effetto Baby Un sfumato E' un sfumato Un Un fumato Sì Non c'è Un sfumato Non c'è Un sfumato Un fumato Un fumato Un fumato Un fumato Un fumato Un fumato Io ce l'ho c'è qualcuno che ha fatto qualcosa qualunque colore il blu io ero sito e non si stanno andando domani pericoli non hanno ancora fatto torni a te nascosto quando si carica parte weekly bed removal Q completed 25 let come è andato dai gialli ci sta andando adesso ha una palla di fuoco no non mi lancerai la palla di fuoco si mi ha lanciato la palla di fuoco arrivo col piccone in ferro se vuoi perchè mi serve no questo si è messo davanti non sono molto in furbio comunque sembrano un po' stupidi quando li combatti questi scopriamo subito ok avevi ragione infatti allora io adesso la metto la metto la difesa minor fatigue trap vai c'è un blu sta arrivando da noi e fa spilda piuttosto bene lo so erano più blue guarda lo fireballo se riesco vai perfetto però prendi una fireball adesso che non ne ho più perchè la usavo questo è il nostro compagno sta cercando di andare a uccidere il team che non c'è più chi manca? manca solo i verdi il problema è che io ho usato la fireball per difendere invece che attaccare i verdi quindi non ce l'ho più solo il piccone se hanno il legno non ci faccio di fatto c'è un blu che sta avvenendo da noi pensa che abbiamo perso il letto no please ti prego no sì no no non abbiamo perso che mi avete lasciato fare 3v1 contro 3verdi va bene eh ma ho ucciso il tizio quando aveva già gotto il blocco non lo so va bene c'hai un diamante? no ho una TNT però faccio un po' di faro nella cassa e boh sono caduto ma prendo l'uovo così faccio il ponte dritto per dritto lì è pesante? boh qualsiasi forma di distrazione ma va bene sinceramente ma se lo aspetti un ottimo ci sono tanti sai anche che in basso no no non sai f1 trattato basso trattato basso è H vt r a o asa laura c'è credo c'è parte io si ci sono dietro io non ho un bel niente posso fare il tank con la spada in legno ma se voi faccio io il tank sono in diamante e ho una spada in ferro ma non passare da lì è il mio programmatore più comodo hai usato un enderpearl no perché hai messo il limite? perché così quando non ci siamo la gente può entrare e fare i team da tre senza essere disturbata ah ok va bene beh potevi creare l'essenza a posto che va bene anche così si pare vabbè sono morto comunque c'è un ponte dritto per dritto nella loro base perciò se vuoi usarlo si con la TNT vai mi sono prendere tre pezzi di ferro ok tieni devi avere qualche blocco che succede che mi rilanciano il flash o simili però ho continuato a ucciderli quindi probabilmente non hanno neanche l'arco non lo so mi ricordo se usano non lo so io li ho uccisi tipo un po' dovrò usare lo stesso il ponte laterale perché la sono da loro il ponte dritto almeno quello se ne va io vado a toccare dal laterale sto morendo il focato ma va bene torna che state a fare? stiamo facendo una bad ok ditemi quando avete finito che vengono invito a me e parti quando avete finito si devo chiedere la mia finestra c'è tutta la casa bollente poi c'è camera mia che è tipo frigorifero ma da me fa un freddo invece anche da me però c'è tutti i freddo perchè tipo la mia casa divisa qua a parte di me 5 e a parte di me no no e tipo vabbè sono due calorifero in breve e la mia camera è un altro calorifero e allora non è accendibile no perchè me non sono mooo ah abbiamo mento si erano come una sono stata a livello 2 9 invitami oh io tipo ieri sono entrato no ieri è che il 25 si sono entrato tipo 10 minuti e c'era è vero si e tipo già baldo e tipo c'era i premi che tipo dal 3 al 25 ti davano dei premi tutti i giorni che entravi ma veramente no io non l'ho preso e tipo c'erano dei giorni in cui ti davo 160.000 a cade point si me lo ricordo però io tipo tipo ho preso tutti perché il 25 e quindi avevo già tutti sbloccati ok così la stanza è piena è piena ciao stax ancora possibile non è stax ah no è vaffa però vabbè hanno bug blu ce l'hai un piccolo attento attento l'avevo già sentito però ok cos'hanno no non mi uccide no 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 eh mi hanno ucciso ovviamente l'hans c'è l'hans c'è io io metto uno stato l'hans sotto e poi magari uno viene sotto ma no non era Mattia Ida che chi è secondo te stava dicendo ah no ok sono confuso un attimo no niente mi sfugge la cosa vabbè problemi mentali si esatto vabbè blu andiamo a sciare i verdi no i gialli restate in base voi lo sto riportando per autoclicker non sono sicuro ma almeno lo check per cosa? ma cos'è? ma è un hacker chi? è lui l'ho riportato ma è forte ma non so chi secondo te non so se è forte o è hacker qual'era la domanda il giallo si è ucciso davanti ai miei occhi eeeh ma il giallo è stupissimo come ha visto davanti a lui ha girato a largo si ogni tanto ci sono questi si quando finito quando finito boh ti conto che questo 9Q è sospetto ah ok no invito nel party raff poi tra l'altro si vabbè e poi no 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 non gli voglio dare gli smeganti no gli ho dato gli smeganti sta saltando sul ponte ora remember che non ha no no ha fatto un trick il giro ho preso una TNT che livello è sto 9Q scusate non so se vanno a vedere la gente io ci vado senza niente tu so che mi uccide vai anch'io senza aspettative con cilio mi ho allungato troppo il nostro ponte sta vedendo perchè così ci salvano sopra no copri cioè vai prima te mi copri no io ti anche c'è c'è vai vai spacca ti fai l'archila a me sta rompendo il letto suicide ma questo verde è tipo è ucciso si era in base nostra però è tipo in armatura di pelle mi ha lasciato con due cuori è quello che mi ha ucciso 15 volte è qualcosa is over power ma che spada aveva aveva una spada di legno appunto is over power venite dai green a salvarmi serio più che salvarmi voglio mettere le charme tra 20 secondi senza fretta no hai bisogno di aiuto o no sì perchè quello lì è lo shopkeeper e io sono nell'isola di diamanti lo vedo io vado a prendere vediamo qua tu aiuta blu ah ma sei basta che lo distraete ok potete andare anche indietro per un passato salta no no ho preso il compass grande ora la kill è mia no piuttosto pensare rosso che c'era dietro di noi sì infatti che questo adesso ci spacca il letto garantito hai avuto la pozione del cavolo che hai fatto eh rosso è anche se vengo ad aiutarti no non ce n'ho bisogno stiamo dominando poi saltai sul ponte no niente scherzo c'è di no quello che andrì io allora allora no però no dai no no dai questi qua io ho sei per favore te ne do uno teni ma me ne sei uno sei io lo so no io sono molto no ti ho ucciso lo che lo so 4 divida va bene faccio un'altra tieniti via io faccio avete gol è colpa mia mi sono dimenticato di comprare l'arma me ne servono 4 il gol me ne servono 3 ragazzi ho alzato il nostro ponte comunque fino all'agli smerade si mi da due pezzi d'oro alla jam boost tieni te ne do il nostro letto sta per essere lo grande no chi dove è non puoi arriverà ok vabbè non c'è io volevo andare dal mercante dei diamanti dell'orosso perché quello c'ho tipo 4 lati da andare eccolo eccolo lodi si muore e morto del tutto è adesso 2 no sono morto inutili abbiamo vinto la mia con il trapo ha funzionato primo 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 io secondo tecque tecso scherzo sono potente blu questa partita invece non si è fatto vedere tanto eh e non se neanche arrivati in top in generale è sempre dietro di tecno guarda questo sembra lo titan versino oscuro lol 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 blu ti interessa tipo la skyblock ti interessa tipo la skyblock no dipende che so ok a me solamente è mi ha stufato pure l'opi skyblock adesso le bad wars solamente blu di piacere le wakaci wakaci c'è ah devi capire devi capire che blu è un cinesino blu ti va di fare tipo un giorno le wakaci run su bad lion su bad lion io non ci sa non le ho mai fatte ma boh sono bellissime sono bellissime e praticamente sono run solamente come le wakaci champions però run ti danno due diamanti a colpo un diamante se ne da due cioè sono le speed l'unica cosa che non mi convincono dei cose sono i client di bambini di bambini ah quello la sicura a me ma pieno di giorni che mi piace i clienti non lo so tipo la lemon quelle là sono proprio hack la lemon tipo e mi hanno bandato quando laggavo su bad lion con il client di bad lion si io laggavo quando una volta laggavo e mi bambino ah bravo crazy che barda lui hai preso un piccone il legno dei quattro blocchi 16 blocchi deja vu vai che si sto arrivando io tranquillo e aspetta l'aspetta l'aspetta non ti buttare arrivando ci sono ci sono ci sono ci sono c'era che è poterla che poi che ne più bisogno tieni ok ci sono ci sono ci sono ci avete un colpo blu il trem il 3 blocchi vai no è mio di blu ed era di blu alla fine ma cos'è sono abituato quanta gente quanta gente quanta gente è mio perfetto ultimo eliminato andiamo dai giorni lascio a tutti gli oroli aspetta te mi e devo prendere una guerra prendo la spadina e un piccone o una che poi una trenti se mi interessa boh io ce l'ho boh it's a trap va bene io c'ho un piccolo andiamo dai gialli dai sto mangiando io non ho perso vita quindi io ti ho fatto blu hai ricevuto regali per natale un presepe ah perché un presepe un presepe a natale nuovo film vai blu vai il copro di copro di copro dimostrava attento aiuto ci sono ok perfetto aiutati chi si suicida Io no Io ucciso Titan Mi ha ucciso Titan Titan è forte Killato Andiamo dai verdi Killato Ah io ho preso tolto il titolo Ok ci sono ci sono ci sono Blu vai Io non sto dietro di te mi dispiace Ceri Ceri Bugiardo Azeo di vita E' ucciso Azeo di vita Oggi c'è un verde C'è un verde campeonato in base nostra Non l'avete visto No Certo che non l'ho visto Cosa credi Io vado a uccidere quello che azeo di vita Cosa tan credi dai No veramente Che battuta hai fatto Batti Ecco un ucciso L'altro mi sciotta Vale Non poteva l'ora di uccidermi Ho usato la Boom Non vai più uno Cosa ho detto Blu sei scaso Non vai più in top Cioè io ci vado Tutto Ho imparato Tutto la Mi ha insegnato a fare pvp Ora è un'altra persona A pull Chi? Alessio Mi ha insegnato Le sue tecniche Però Ora vedi che le vinciamo tutte subito Ciao Tutto la